Parte dalla città di Sassari la prima brochure informativa sull'endometriosi in codice Braille. Si tratta di un progetto a carattere nazionale di inclusione e sensibilizzazione su una patologia ancora oggi poco conosciuta che in Italia interessa una donna su 10 in età fertile. L'amministrazione comunale ormai da alcuni anni si fa promotore di azioni per diffondere un'informazione adeguata su questa malattia. Nella giornata di oggi a Palazzo Ducale è stato presentato l'ultimo progetto messo in campo dal nome Tocchiamo la consapevolezza. Oggi quindi si porta a compimento un percorso, quella della brochure dell'endometriosi in Braille, nel quale davvero siamo orgogliosi e riteniamo che questa iniziativa possa essere ripetuta in tutta Italia affinché l'endometriosi venga conosciuta e letta anche dalle persone non vedenti. L'idea è quella di offrire la possibilità di informarsi su una patologia in cui la prevenzione e il riconoscimento ai primi sintomi è fondamentale. Inizialmente saranno 100 le copie di brochure distribuite in tutto il territorio nazionale con la prospettiva di consegnare in futuro il cartaceo a tutte le persone affette da cecità. Grazie a questa brochure in Braille, la prima sull'endometriosi in Braille, possiamo rafforzare quello che è il nostro progetto di inclusività e quindi possiamo dire che nel nostro piccolo riusciremo con questa brochure ad abbattere alcune barriere. Ad aver sposato fin da subito l'iniziativa è stata la sezione territoriale cittadina dell'Unione Italiana Cecchi e di Povedenti. Grazie a questa collaborazione, chiunque è affetto da un disturbo sensoriale potrà conoscere gli aspetti di questa patologia.